Attenzione a una partita che ha desiderato per otto mesi non può stare nemmeno, la vuole andare a giocare. Se poi è fatto in questa maniera e la vince ha paura della partita dopo perché deve rinunciare anche quella dopo. C'è lo stress nella ricerca del risultato e c'è lo stress nella gestione del risultato. Per cui se una moleste la prima, non fa per noi. Se può giocare tre partite di finale, io ho intenzione di farle giocare 30, ma fa 27.